Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Benevento Carrarese, valevole per la semifinale di ritorno play-off Lega Pro. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16, in compagnia di mister Ghettano Oteri. Iniziamo subito con le domande. Ivan Calabrese, 8 Channel. Prego. Salve mister. Che giorni sono stati per la squadra dopo la sconfitta di Carrara? E poi le chiedo, ci sarà il ritorno di Pinato tra i convocati? Quanto è importante avere un calciatore così fresco in quella zona del campo in questo momento dei play-off? A premesso che le condizioni fisiche sono per noi di un certo tipo, ma per gli altri sono uguali. Per cui anche la Catarese più o meno ha giocato sempre i soliti, a parte 1-2. Pinato ha scontato la squalifica, è un giocatore disponibile, però quello che farò obiettivamente non lo so. So soltanto che dopo la partita sono stati per chi ha giocato soprattutto due giorni di riposo assoluto, perché erano fondamentali. Poi abbiamo avuto due o tre allenamenti, con quello di domani, in cui prepareremo definitivamente la partita. Preparandoci anche a giocare partite diverse all'interno della stessa gara, parlo dal punto di vista tattico. Stiamo sviscerando gli aspetti, loro partono da una condizione di vantaggio, perché hanno vinto all'annata. Questo vantaggio lo dobbiamo recuperare. Nel frattempo c'è stata una grande connessione di pubblico e queste partite le vogliono giocare tutti. Luigi Trusio, il mattino, prego. Salve mister, posso immaginare che qualche dubbio sia legato anche in riferimento all'eventuale utilizzo di Pinato, che è fresco perché ha saltato quattro partite, ma avrete immagino anche Nardi, che ha recuperato un po' scontando il turno di squalifica, e che sia legato anche al fatto di dover fare gol necessariamente e quindi magari giocando oltre il quartista si può essere meno offensivo, invece quei tre in linea si può cercare di passare in vantaggio già dall'inizio. Oppure potrebbe anche essere, tra virgolette, una gara non necessariamente da giocare all'arma bianca sin dall'inizio, magari cercando di trovare un gol senza forzare e poi eventualmente farlo nel secondo tempo cambiando qualcosa. Sono tutte supposizioni che non si possono fare adesso, perché poi è difficile prevedere gli sviluppi della partita. Noi abbiamo preparato tante evenienze, come ho detto prima, all'interno della gara si potranno giocare una partita emozionalmente o situazionalmente diversa da quella con cui è cominciata. Noi ci siamo preparati a fare anche altre cose, ma senza mai rinunciare a cosa. Al nostro proposito di attaccare, di essere propositivi e giusti equilibri in campo, che questi sono fondamentali, perché per attaccare bene devi saper difendere anche bene. Ma questo noi tante volte lo abbiamo dimostrato. Quindi io dico che complessivamente le condizioni fisiche sono uguali alle loro. Abbiamo fatto bene, abbiamo eliminato squadre importanti come la Tiestina e la Torres. Adesso sono tutte competitive le squadre, ma noi non ci sentiamo inferiori a nessuno. Per cui sappiamo che partiamo da una condizione di svantaggio. Se giocate il primo round, domani avremo un grande apporto dai nostri tifosi. E questa è una parte molto importante. Sono sicuro che ci sosterranno. E questo è un primo obiettivo che abbiamo anche raggiunto, se pensiamo a qualche mese fa. Ne vogliamo raggiungere altri. Noi, assieme ai tifosi, noi siamo pronti. Ripeto, la partita l'abbiamo preparata. Poi ci potranno essere delle situazioni leggermente diverse. Sì o no, non lo so. Lo vedremo al momento, ma siamo pronti. Se c'è una costante che ha contraddistinto questi play-off nell'ambito delle scelte, è la difesa, che lei non ha mai cambiato dalla prima partita. Sta pensando magari a qualche modifica, anche in un'ottica di guadagnare qualche centimetro, semmai ho anche un po' di maggiore efficacia nel gioco aereo. Non solo difensivo, ma anche offensivo, innestando uno come Meccariello. Oppure è sempre un dubbio che si porta dietro, come tutte le volte? Parliamo sempre di Meccariello e io dico che ha recuperato una condizione migliore. Certe volte mi viene un po' il dubbio, perché non di Terranova. Sono due ottimi professionisti. Poi le scelte, io le vedo tutti i giorni, i centimetri. Non è che dietro giochiamo con i nanetti, perché Viscardi, Berra e Capellini, quelli che hanno giocato fino adesso, poi manca anche i basti, non sono giocatori strutturati, ma poi dobbiamo giocare palla a terra. Situazione di palla inattiva, ce n'è successa una, ma voglio dire può capitare. Non è che non capita a nessuno, può capitare. Non è che abbiamo deficienze, non abbiamo né deficienze tattiche in quelle situazioni, parlo di calcitangolo, di punizione, ma poi meglio non parlarne, perché se ci fossero delle problematiche, ma non ci sono, sono istanti, attimi in cui abbiamo subito una situazione. A volte ti va bene, a volte ti va male, sono episodi, ma noi più che su questi aspetti qui che sono importanti, ci dobbiamo concentrare sulla grande gara, carica di intensità, di propositività e di giusti equilibri dietro. Questo è quello che dobbiamo fare. Sicuramente ci sarà un'ottima sfera che viviamo così totalmente, per quello che sono le mie notizie, per la prima volta, e ripeto, questo è un primo obiettivo, questo grande afflato col pubblico, vuol dire che questo gruppo, acquisito in questo percorso di lavoro che abbiamo fatto insieme, acquisito dei meriti. Andiamo avanti, noi vogliamo andare avanti, ma sappiamo che per farlo domani dovremmo fare una grande gara. Siamo pronti. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Volevo tornare sul fatto fisico. Abbiamo giocato, il Benevento ha giocato, 5 partite in 14 giorni. Questa sarà la sesta in poco meno di 20. Le scelte saranno fatte anche in base a una condizione atletica diversa tra i giocatori o stanno tutti tranquilli e pronti? Intanto le condizioni sono uguali, sia le nostre che le loro. Poi io le alleno tutti i giorni e so chi è più atleta rispetto a chi è meno atleta. Atleta vuol dire giocatori formati dal punto di vista fisico che sono in grado di sviluppare o che hanno sviluppato in questo percorso di lavoro allenamenti importanti e che hanno anche facilità di recupero. Ce ne sono tanti dentro questo gruppo. Siccome poi le condizioni sono uguali, non è questo il problema, assolutamente. È proprio l'ultimo dei problemi, perché ripeto, poi c'è una condizione di equilibrio fra noi e loro dal punto di vista del dispendio fisico, perché anche loro vengono da un percorso di turni in cui Perugia, Juventus, eccetera, siamo uguali. Invece dal punto di vista mentale, questo fatto, la tifoseria che finalmente si è mossa, che ha dato una risposta che già dovrebbe essere di impatto, la squadra l'ha sentita questa cosa? Ma certo che sì, perché poi tanti ragazzi vivono questo ambiente, questo è un aspetto molto importante, per cui non servono da parte mia, dal punto di vista motivazionale, tante parole, serve soltanto essere da guida, fare le scelte adeguate, avere capacità di lettura delle situazioni che si verificano in partita, dare fiducia a tutti, ma come abbiamo sempre fatto, alcuni dicono, ma Auteri sta facendo giocare sempre gli stessi, altre volte hanno detto, ma Auteri cambia tanto, insomma, mettiamoci un po' d'accordo, perché come gira il vento, che è sempre una cosa importante il vento, anzi molto, molto importante, come gira il vento, poi dopo gira la bandiera, no, noi siamo tranquilli e sereni, ci fa enorme piacere, da parte mia non c'è bisogno di caricare cosa, già si sa l'importanza della partita, noi superiamo questo turno, che è un avversario importante, è una partita importante, e poi partono da questa piccola condizione di privilegio, saremo in finale, di che parliamo, con che importanza vogliamo dare, loro lo sanno, bisogna soltanto preparare bene, tranquillizzare, dare fiducia ai ragazzi, e avere tutti a disposizione. Massimiliano Mogavero, Isagno Quodidiano, prego. Salve mister, buon pomeriggio. È la prima volta che vi trovate in una condizione di svantaggio, in questi play-off. Cosa può cambiare, come può incidere questo fattore, sull'approccio alla gara da parte della sua squadra, che in precedenza è sempre stato un po' timido, per la verità, poi strada facendo è uscita alla distanza, stavolta invece l'impatto potrà essere diverso? Ma in questo tipo di partite, contro questo tipo di avversari, quando rimangono quattro squadre alla fine, le condizioni di equilibrio sono sostanziali, per cui pensare di non andare in difficoltà, o di essere dominanti per tutta la partita, è improbabile. Secondo me non è neanche vero che siamo andati in difficoltà, perché partiamo dall'1-0. Noi abbiamo fatto una 1 a Trieste, dopo tre minuti abbiamo preso gol. Vi ricordo qual è stato il filo conduttore, da quel momento in poi, per tutta la partita che è spesso la squadra. E quindi, noi non dobbiamo pensare con i sé e con i mani, noi dobbiamo giocare la partita che abbiamo preparato, e lo dobbiamo fare con una carica motivazionale importante, nel senso che ho bisogno di dire tante parole, con la giusta lucidità, con la giusta serenità, ma con una determinazione feroce, che questo fa parte di una partita di calcio, in una partita di calcio i concetti, i toni agonistici, è uno sport di contatto di calcio, per cui non conta solo la tecnica, la tattica, ma ci saremo, io ne sono convinto, domani faremo una grande gara. Roberto Corrado, Cronache del Sagno, prego. Buonasera, appena detto che la squadra è convinta appunto del fatto che farà una grande gara, è una partita che alla fine sarà decisa probabilmente dalla cura, al dettaglio, all'attenzione e c'è un particolare che pretende in modo particolare, in modo particolare appunto dalla squadra. Ma di certo, ce ne sono tante di cose, non le andiamo a sviscerare all'esterno, a questo punto ci sono degli video, tutti sappiamo tutto di tutti, anche i nostri avversari sanno tante cose di noi, però come ha detto prima, sono partite molto equilibrate, che conteranno anche i piccoli dettagli, che potranno fare la differenza, così come è avvenuta l'andata. Oreste Tretola, il mattino online, prego. Buonasera mister, le chiedo come sta la Nini, le ultime due partite l'abbiamo visto un po' stanco, un po' meno presente nel gioco, poi ogni tanto ha quelle sue fiammate in cui si accende, quindi insomma, se è una questione prettamente fisica, un po' di stanchezza, se magari adesso sta accusando un po' quel periodo di stop che ha avuto verso il finale di stagione, quando ha avuto l'infortunio. Grazie. A sentire lui, non è stanco, per cui, però poi i fatti in alcuni momenti hanno detto cose diverse, però la Nini è un giocatore importante per noi, quindi, come ne sono tanti altri, è quello che, diciamo così, con più frequenza, è stato un po' più risoluto, insomma, gol, per cui, vedremo, valuteremo tante cose, la partita, non è che, durerà 100 minuti, e poi chi lo sa, perché, voglio dire, è difficile, poi proprio non ce l'ho la sfera di cristallo, per essere capaci di prevedere anche l'immediato futuro. Sta bene, come stanno bene tanti altri, la Nini sicuramente è meno atleta, rispetto che posso fare degli esempi, rispetto a Improde, rispetto a Simonetti, meno atleta, nel senso che ha un'altra fibra, lui vive di scatti continui, e quindi poi ogni tanto ha bisogno di pause, perché è un giocatore che, a qualsiasi momento, può avere il corpo risolutore. Gianluca Napolitano, il Corriere del Pallone, prego. Ritorno un po' sull'aspetto pubblico, domani sera sarà, credo la prima volta, che questi ragazzi vedranno il vero pubblico, diciamo, importante di Benevento, ecco, lei conoscendoli anche dal punto di vista, diciamo emotivo, ognuno di loro, ecco, pensa che sia una spinta in più, o per qualcuno potrebbe essere, tra virgolette, un po' di paura, perché insomma, non abituato, semmai, a un palcoscenico, del genere, e poi un'altra domanda, come sta vivendo lei questa, questa partita dal punto di vista personale? I ragazzi più giovani, comunque hanno una personalità, siccome il calcio ha, oltre a tutti gli aspetti, tipo tecnico, fisico, tattico, che appartengono ai concetti di gruppo, di squadra, eccetera, è anche un'affermazione di personalità, ma in questo caso noi abbiamo, abbiamo un ambiente ben predisposto, nei nostri confronti, a volte quando sei fuori casa e trovi le stesse condizioni, io personalmente mi piace sfidare, ipoteticamente, gli avversari, e quindi il calcio è un'affermazione di personalità, cioè anche i ragazzi più giovani qui hanno personalità, e quindi, no, nessun problema, si fanno esperienze, l'importante è gestire la carica emotiva, altri giocatori più esperti, sono più abituati, ma si abituiranno anche quelli un po' più giovani, fanno esperienze importanti. Io, ormai abbiamo fatto tante partite, non è il momento di trasferire preoccupazioni, noi dobbiamo soltanto lavorare bene e fare la prestazione, noi faremo una prestazione e verremo fuori alla grande, ma io sono sicuro che faremo una grande partita. Luigi Trusio, il mattino, prego. Volevo chiederle se dai convocati dobbiamo aspettarci qualche sorpresa, se c'è qualcuno che è venuto meno, nell'ultimo allenamento. Vabbè, adesso i convocati li diranno, probabilmente, Masciangelo e Ciano, per dei piccoli intoppi, e quindi vabbè. E poi volevo chiedere, a proposito della Cararese, che tipo di partita si aspetta possano impostare loro e soprattutto se potrebbero ricalcare insomma un po' la partita dell'andata dove hanno previsto una staffetta tra gli esterni che insomma qualche problemino sulle fasce ce l'ha creato, anche perché poi da noi giocano sempre gli stessi e loro ne hanno quattro che possono alternare diciamo con grande semplicità e facilità. Grazie. Ma vabbè, inizio del secondo tempo soprattutto ci hanno negato qualche problema, però francamente anche su situazioni facilmente leggibili, non è che eravamo scoperti. Cararese è una squadra molto, si è arrivata fino in fondo, una squadra che ha qualità, ha fatto una media punti importanti con Calabro, ha giocatori importanti davanti, in mezzo al campo, giocatori anche che hanno fatto la categoria, che hanno giocato play-off, alcuni giocatori che hanno vinto anche i campionati, è una squadra strutturata, le difficoltà, loro giocano un calcio molto tattico e quindi partono da quel privilegio, da quel vantaggio dell'andata a stare a noi trovare le contromisure adeguate e trovare le soluzioni per ribaltare la partita.